Per cercare di capire come è possibile riuscire a creare un sistema che in qualche modo Campania Aerospesa aveva semplicemente abbozzato, ma che adesso il DAC potrebbe realizzare concretamente un sistema che consente alla nostra filiera di avere quelle opportunità che finora le sono oggettivamente mancate. E poi le chiedo, per concludere il discorso sul nuovo turboeleco, ma ci dobbiamo aspettare qualche buona notizia alle burgelle, pensa o no? So che è una domanda abbastanza così, ma gliela faccio anche perché penso che la sua visibilità sulla questione sia certamente adeguata per dare almeno un minimo di segnale in questa direzione. Internazionalizzazione è una questione importante, però bisogna essere molto bravi e attenti a spiegare che questo non significa essere presenti solo alle fiere del settore. Essere sui mercati internazionali significa essere capaci di creare una rete stabile di relazioni positive e di collaborazione con il resto del mondo, in Europa e fuori d'Europa. L'esperienza che è stata fatta con Campania Aerospazio è un'esperienza importantissima che va salvaguardata, perché la regione Campania ha rispetto al tema dell'aerospazio una volontà ferma attraverso il suo presidente Caldoro, gli assessori Trombetti, il delegato Martuscello. C'è un lavoro comune che stiamo facendo, anche proprio con l'onorevole Martuscello, per avere un programma di come la Campania si deve organizzare per avere rapporti stabili sui mercati internazionali ed essere poi anche presente alle fiere. Il DAC è lo strumento di tutti, era quello un po' che intendevo dire all'inizio di questa bella conversazione, cioè non è solo lo strumento per fare ricerca, è lo strumento anche per fare politiche di promozione, per fare politica industriale, e quindi è non di un assessore o di un altro assessore, è di tutti, è lo strumento che la regione Campania ha deciso di darsi. Quindi noi su questo tema stiamo lavorando, lavoriamo intensamente, anche con il supporto di Campania Innovazione, e a breve, nei prossimi mesi, usciremo con una struttura di organizzazione e un programma di presenze anche agli eventi, che secondo me sarà molto importante e che dovrà ricevere però la condivisione di tutto il sistema. Perché l'altra questione, e poi chiudo su questo aspetto, è che bisogna realizzare anche su questo tema un'importante condivisione. Gli attori del sistema non possono essere coinvolti solo al momento di un bando in cui si dice alle imprese se c'è il salone, vuoi partecipare o no, con loro va costruito, perché sono loro gli utenti finali e i beneficiari finali. Non bisogna spaventarsi di dire che le imprese sono i beneficiari finali, perché le imprese significa il lavoro, significa l'occupazione, significa l'indotto. E quindi come abbiamo fatto con i progetti di ricerca e di formazione, così anche con tutte le altre attività, il nostro primo obiettivo è costruire le risposte ai problemi insieme alle imprese. C'è un lavoro straordinario che da qualche mese, da molti mesi, i presidenti delle regioni Campania e Puglia, quindi Stefano Caldoro e Niki Vendola, insieme anche con il governo italiano, con Alenia Ermacchi, con ATR e i soci francesi, per mettere sul tappeto la possibilità di portare avanti questo programma che sarebbe una novità a livello mondiale. Cioè in questo momento nessun fabbricante di aeree di questa fascia sta lavorando a un nuovo aereo da 90 posti turboelica. Arrivare per primi significherebbe conquistare un primato di cui, se siamo bravi, potremmo poi godere positivamente in termini di occupazione e di lavoro per i prossimi 30 anni almeno. Tutti sono impegnati, con una straordinaria forza, con uno straordinario peso politico a tutti i livelli. Ovviamente la trattativa con i soci è delicata, finora la linea di integrazione è sempre stata a Tolosa per gli ATR. Quindi noi stiamo proponendo qualcosa che in qualche modo cambia un po' le regole del rapporto. Io so che c'è grande impegno, c'è ottimismo su questa questione e quindi sulla base dell'ottimismo, che anche nei momenti difficili non ci deve abbandonare, potrebbe anche accadere. Speriamo che accada. Noi però intanto ci dobbiamo preparare, questa è la cosa più importante. Non possiamo chiedere che l'ATR venga fabbricato per la maggior parte qui in Campania e progettato qui in Campania, la linea di integrazione, se non creiamo le migliori condizioni. Le migliori condizioni significa un sistema imprenditoriale all'altezza delle sfide tecnologiche, capace di lavorare nuovi materiali, capace di assicurare la qualità, una gestione manageriale che sia moderna e all'altezza dell'interlocuzione con livelli veramente internazionali e avanzati, una viabilità alle strutture aeroportuali che dicevamo prima, una risposta alla pubblica amministrazione veloce, cioè dobbiamo essere un territorio moderno per poter ospitare la fabbricazione di un aereo moderno. Professore, parto da un concetto che lei richiama spesso, condivisione. Le faccio una domanda un po' inconsuente per la scelta. Le dico, ecco, diciamocelo chiaramente, penso che tutti abbiamo ben chiaro che dopo i risultati elettorali, al di là dell'incertezza più generale che si è creata nel nostro paese dal punto di vista politico e governativo, c'è un aspetto che mi preme sottoporto. Nella regione Lombardia vince un'impostazione e una parte politica che lei come me sa che nel recente passato ha riproposto anche nel nostro settore, in quello dell'aerospazio, un'opzione che in qualche modo non ha mai conciso con quella che era la logica di un cluster nazionale che invece poi negli ultimi mesi ha avuto concreta attuazione. Cioè quella di creare una specie di meta distretta del nord, mettendo insieme le regioni più forti, e chiaramente questo avrebbe creato il paese, un'ipotesi di questo tipo, quello squilibrio che secondo me non serve né a loro, ma né all'intero paese. Però è un'opzione che è in campo. Lei pensa che alla fine diventerà anche determinante per lo sviluppo o l'inviluppo della situazione del comparto nei prossimi mesi? È chiaro che noi siamo stati in qualche modo protagonisti, in negativo se posso dirlo, di alcune scelte che hanno guardato alla politica e non alla politica industriale, che hanno riguardato il rapporto di forza in quel momento tra i partiti e che quindi hanno portato al nord con decisioni francamente poco comprensibili dal punto di vista industriale, ad esempio non solo la sede legale, ma anche molta della competenza che era in campagna rispetto all'aviazione generale. È chiaro che noi questa cosa non l'abbiamo vissuta bene, però ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo detto che abbiamo solo modo di reagire, di mostrare che le eccellenze sono qui, che le capacità industriali, oltre che la tradizione, sono in campagna e quindi prima o poi dovranno ritornare sulla loro decisione. Io credo che questa occasione del nuovo regionale sarà l'occasione che rimetterà a posto le cose perché il nuovo regionale se si farà si potrà fare solo fra Campania e Puglia in una proporzione che vedrà la campagna veramente con un ruolo molto importante, ovviamente. E quindi questa è la partita che dobbiamo giocare. Come ce la dobbiamo giocare? È chiaro che io prima ho fatto delle affermazioni, è chiaro che in privato qualche volta ho sbattuto i pugni e mi sono arrabbiato, però il modo migliore per reagire a quelle scelte è continuare a lavorare per riaffermare l'eccellenza di questo territorio nella ricerca e nelle produzioni aerospaziali. Ed è quello che noi stiamo facendo. Lei sa benissimo, Antonio, che mettendo insieme i distretti aerospaziali di Lombardia, Piemonte, Lazio, Campania, Puglia, più i poli aeronautici, l'Emilia Romagna e dell'Umbria, come abbiamo fatto con la costituzione del cluster nazionale, che tra l'altro aggrega anche Finmeccanica, avvio, ciò che abbiamo messo insieme veramente tutto quello che c'è nel paese del settore aerospaziale, noi appena appena raggiungiamo una massa critica che comincia ad essere paragonabile a quella di Tolosa. Chiunque di noi pensa di essere autosufficiente e che con la propria piccola dimensione può andare sui mercati internazionali e andare a competere lo faccia pure, secondo me è un suicidio. Io francamente manie e suicide non ne ho, quindi io continuo ad essere del parere che questo paese, il nostro paese, ha in una serie di regioni competenze distribuite, ha tradizione e capacità industriali su prodotti aerospaziali ben definiti, che se permane questa chiarezza e non si cerca di far fare, il civile ha già sempre fatto il militare, gli elicotteri ha già sempre fatto, e quindi di mescolare le carte, ma si continua a mantenere questa organizzazione e tutti insieme lavoriamo ripartendo i costi e i tempi degli sviluppi tecnologici, questo paese è un paese moderno e va avanti. Io credo solo in questa visione, altre visioni secondo me non hanno possibilità di affermazione. Ringraziamo il professor Luigi Carrino per la conversazione di oggi, ci rivediamo la prossima settimana.